Musica Mentre per quanto riguarda ombretto e palette Allora, per quanto riguarda una palette E mi trovo a bocciare una palette della Mua Per quanto io ami le loro palettine Perché comunque sono economiche e abbastanza carine Ed è questa qui, la Poptastic Come vedete c'è ancora il prezzo La pagare 5 euro al Cosmotive La cosa che mi ha tratto in inganno È che avevo già un'altra palette Che è la Pretty Pastels Che presi dal loro sito E mi ci trovo benissimo Un po' polverosi Ma assolutamente, per quanto viene, è buona Al Cosmoproof sono andata Ad occhi chiusi senza nemmeno sbocciarla Ho preso la fregatura Perché, come vedete, sono dei colori molto belli E molto estivi e primaverili Ma la cosa che mi dispiace È che ci sono alcuni colori molto pigmentati Alcuni colori che non lo sono assolutamente Ad esempio, il motivo per cui presi questa palette Erano il viola Questo viola e questo viola qui Che sono in assoluto fra i meno pigmentati Il primo viola è in alto È così E una volta che lo sfumo sul dito Non si vede quasi più Anzi, oddio, dalla videocamera Fin troppo si vede E l'altro viola Lascia solamente Praticamente di brillantini E una volta che lo metto sulla mano L'ho messo sopra l'altro Non si vede proprio Però poi, ad esempio Se si va a prendere il blu notte O il verde acqua Sono super pigmentati Quindi, diciamo, non proprio un flop Un ni, diciamo Però mi dispiace Perché avevo preso questo palette Soprattutto per quei viola Che mi piacevano tantissimo E su quel punto di vista Secondo me un flop un po' è stato Per quanto riguarda invece un ombretto Che ci sono rimasta male Perché ero partita super fomentata È un ombretto della Essence Della collezione Road Trip È il numero 02 I don't care I love it È una carina l'idea Perché la parte chiara è un ombretto La parte scura è un eyeliner Questo ombretto non è praticamente verde Ma una volta che si sfuma Rimane un alone bianco Con dei brillantini E l'eyeliner non è verde Come lo vedete qui Ma è un verde Molto Deboluccio Quindi questa cosa Mi è un po' dispiaciuta Perché l'idea anche Di avere ombretto eyeliner Nello stesso Prodotto Insomma Mi piaceva molto Per quanto riguarda il mascara Non ho nessuno da mostrarvene Perché al momento Sono super soddisfatta Di tutti quanti i miei mascara Se dovessi dirvi un flop dell'anno È senza altro quello che vi ho mostrato Nei prodotti finiti Che vi lascio qui Della New York Color Che è lo Skyrise Quindi insomma Se volete sentirne parlare un attimo Andate a vedere Il video dei prodotti finiti Vi metto il link Direttamente Al minuto in cui parlo Del mascara Così non dovete sentirevi tutto Poi Eyeliner Allora Eyeliner Che qui ne ho due Della Essence Sono Non so se erano Di un'edizione limitata Sono questi due mascara Sì Questi due mascara Sono questi due eyeliner Che si chiamano Metal Glam A mettere l'eyeliner E sia perché L'applicatore così piccolo E mezzo spelacchiato Non mi aiuta per nulla Vi faccio vedere i colori Che sono molto molto carini Il problema È che non durano tanto Tanto da sbavare E poi anche appunto L'applicazione Non viene assolutamente perfetta Perché non Non c'è il pennellino Non aiuta assolutamente Questi sono i due colori Un bellissimo blu E questo marrone Che non so perché L'ho comprato Che non mi piace per niente Onestamente Il blu è davvero bello Però ecco Mi trovo a bocciarli Perché non riesco Ad utilizzarli Qualche volta Provo ad utilizzare il blu Ma prelevo il prodotto Con un altro pennellino Come sempre Mi sa che sta venendo Lunghissimo il video Per quanto riguarda Le matite Ne ho due Tra l'altro Due matite azzurre Una è della Yamamai Beauty Ed è la numero 06 Ed è questa matita automatica Ve la faccio vedere Di questo bellissimo azzurro Il problema è Che la mina è dura Nella rima interna Non scrive assolutamente Dura poco E tutti i difetti Ce l'ha lei Praticamente Quindi la boccio assolutamente E un'altra Che mi sento sempre Di bocciare È una di bottega verde Che si chiama Amati da occhi Intensa Non so se ha un numero Sì Azzurro metal Che è molto simile A quella di Yamamai Anche se È un azzurro Un po' più intenso E quella è in alto È già un pochino Più morbida Ma anche questa Non dura quasi niente Nella rima interna Mi scrive pochissimo E quindi assolutamente Secondo me Non fa il suo dovere Ciglie finte Sapete che Le mie prime ciglie finte Le ho provate Per capodanno Quindi non ho da Signalarvi nulla Prodotto per sopracciglia Prodotto per sopracciglia È questa matita Della Elf Che si chiama Eyebrow Lifter And Filler Diciamo che questo È più un flop Per colpa mia Perché il colore È troppo scuro È questo colore qui Ve lo faccio vedere Come vedete È un marrone Molto molto scuro E con le mie ciglia Non sta assolutamente bene Con le mie sopracciglia Scusate Non sta assolutamente bene E oltretutto Non mi piace nemmeno L'effetto che fa Perché rimane molto Finto Diciamo La cosa buona Che mi piace Di questa matita È la parte dietro Che ha appunto Questo illuminante Tendente a rosa Come vedete E quindi Questa cosa Me la fa sfruttare Un pochino Ma non mi piace Nell'effetto Che fai Poi ecco il colore L'ho toppato Poi Rossetti Ecco Qui ne ho più di qualcuno Allora Eccoli qua Inizio con un rossetto Di questi qui È il numero 79 Ed è un bellissimo colore Soprattutto per l'estate È questo rossetto qui Diciamo un corallo Molto aranciato Il problema È che Anche a sbocciarlo È davvero Molto Molto Carino Come vedete Il problema È che Sulle labbra Fa un effetto Bruttissimo A dir poco Oltretutto Evidenzia Tutte le pellicine Tutti i segni Delle labbra No Dura pochissimo Si leva a chiazze Peccato Peccato Perché è davvero Secondo me Un bellissimo Colore Per l'estate Magari Non per adesso Sono un cadavere Ma non riesco Ad utilizzarlo Questa cosa La dissi Anche in uno Dei miei primi video E Una ragazza Mi consiglia Di provarlo Ad usare Come blush Ancora non ci ho mai provato Ma ci proverò Altro rossetto Che Boccio È sempre uno Di Kiko Questo qui Era il packaging È andata via Tutta la scritta Era un'edizione Limitata Se non ricordo male Di due stati fa Una cosa del genere Ed è Questo rossetto Nude Questo qui Diciamo È tutto quanto Quello che rimane Quindi L'ho utilizzato Anche parecchio Ma Secondo me È un flop Perché Come vedete È Molto effetto Gloss E Sulle labbra Tende parecchio Ad impallidire Nel senso Lo vorrei utilizzare Anche d'inverno Perché è molto Iteradante Ed è per questo Che lo vedete Così consumato Ma l'effetto Non è assolutamente Bello Quindi Quando l'ho usata Era perché Era particolarmente Abbronzata E quindi Rimaneva molto carino Anche questo effetto Gloss In estate Secondo me È molto più bello Però Il colore Che lascia È praticamente Nullo È più che altro Cioè Diciamo L'ho utilizzato Più come se fosse Un burro cacao Quando avevo voglia Di idratazione Perché dava anche Magari Quel senso Un po' di carino Di lucida labbra Però In quanto al rossetto Io lo boccio Altri due prodotti Che mi sento di bocciare Uno È un lip marker Dell'Ecatrice Si chiama Color Infusion Ed è il numero Non ha un numero Ma ha un nome Ed è il Don't call me Princess Io con il lip marker O quelli di Kiko Mi ci trovo benissimo Quindi con questo Era andato a colpo sicuro Invece ragazza Assolutamente no Ha questa punta Così a pennarello Ed è Un bellissimo Rosa Questo qui al lato Che rimane anche Molto naturale E carino Sulle labbra E Dopo stesso si opacizza Il problema È che Mentre con quelli di Kiko Non ho particolarmente Problemi Di secchezza delle labbra Questo è davvero Pazzesco Le secca Tantissimo Evidenzia tutte le pellicine Le pieghette Rimane davvero Brutto 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 Quindi Infatti non lo uso Praticamente quasi mai A meno che non devo stare fuori Per poco tempo Però non è assolutamente Un prodotto Che vi consiglio Ultima categoria Gloss Della gloss Della gloss Di gloss Da bocciarvi uno Di essence Che è uno Stay with me Tra l'altro Ho un altro gloss Di questa linea Con cui mi trovo Benissimo Ma questa colorazione È davvero brutta È la 08 Deep Rose Non è che è brutta Ora vi spiego Ve la faccio intanto Vedere È questo Luce da labbra Qui Sui danni Del rosa Nude Il problema È che È tanto appiccicoso A parte quello Ma Sorvoliamo E il colore Rimane davvero poco E tende ad andare via A chiazze Probabilmente Magari può darsi anche Che è un effetto Che fa solo a me Ma questo colore È veramente brutto Addosso Dopo un po' Tende a sparire E Anche questo Ha un effetto Un po' Strano Sulle labbra Mi sbatte Anche questo Un pochino Però Non mi ci vedo Assolutamente E oltretutto Non lo trovo Confortevole Le categorie Sarebbero finite Ma voglio mostrarvi Due prodotti Diciamo Extra Che per me Sono dei super flop Che quindi Voglio assolutamente Mostrarvi La prima È Questa Questo Struccante Di Kiko Si chiama Cleansing Light Oil L'ho presa In offerta A fine Di quest'estate Da quest'estate Ad oggi È stato utilizzato Solo questo È stato Un mega Flop Perché Oltre al fatto Che Unge Tantissimo La pelle Ma voi mi direte È un olio Quindi Ok Brucia Da morire Da morire Gli occhi Ma ragazzi In una maniera davvero brutta Panna alla vista Bruciano tantissimo Non so Io non riesco più ad usarlo Praticamente io ne ho usato davvero poco Il restante sta provando a smaltire la mia madre Ma penso che dopo Questo video Anche questo Lo butterò Perché Un altro invece prodotto Che Boccio È un prodotto per capelli Ed è questo fluido Della testa nera Che si chiama Siero acceleratore di brillantezza Con cristalli liquidi Per capelli colorati Riflessanti Come sapete Io ho Tinte E così vale Quindi Questi tipi di prodotti Mi piace utilizzarli Per ravvivare un po' il colore Il problema è che Oltre a non ravvivare il colore Che è ok E tende ad ungere tanto il capello Lo sporca E Me ne accorgo proprio Perché questo Praticamente Anzi Ero che va a capelli umidi Prima della piega Lo sporca tanto Rimane pesante È un prodotto pesante Per il mio tipo di capelli E È praticamente pieno E ce l'abbiamo da più di un anno Forse No Beh più di un anno no Però da un annetto forse sì E quindi anche questo Lo boccio E niente ragazzi Dopo essere stata cattiva Per bocciato tutti questi prodotti Io vi saluto Spero di essere stata utile Io sono dell'idea Che i video dei flop Servano molto di più Del video dei top Perché magari Può essere utile Per stare alla larga Di alcuni prodottini Fatemi sapere Quali sono stati I vostri flop Dell'anno Così anche io Sto alla larga Di altri prodotti Vi mando un bacio E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao